In una seguitissima diretta del nuovo programma politico C'è posto per te, andato in onda ieri sera su Cilento Channel e su Facebook, Elvira Serra ha raccontato i motivi che l'hanno portata a candidarsi alla guida della città di Agropoli. La decisione finale di candidarmi al sindaco è venuta da un insieme di persone, di amici, pro sindaco ideale e questo per me è stato molto importante, non mi sarei messa in campo se non avessi avuto attorno a me tanto fervore, soprattutto di giovani ed è per questo che sono contenta oggi di capeggiare un gruppo di persone che sono soprattutto provenienti dalla società civile, non sono politici di professione, questo è importante, proprio a dimostrare che dalla società civile vengono tante competenze, tanta capacità di fare e volontà di fare e questo mi rende molto orgogliosa e con loro mi hanno spinto a candidarmi al sindaco, altrimenti io sono una persona molto tranquilla che tende sempre ad unire, ma quando si vede che non si riesce ad unire, soprattutto non si riesce ad unire attorno ad un progetto innovativo e allora io sono molto ben felice di rappresentare queste persone che hanno affidato a me il nome di sindaco, ma noi governeremo la città tutti insieme perché abbiamo bisogno di competenze, di passione, di amore e di capacità. Tante le domande pervenute in diretta tramite i social, dalla sua collocazione politica all'emergenza posseidonia al tema del lavoro. Come pensa di risalare il bilancio del Comune di Agropoli? Il bilancio del Comune di Agropoli è qualcosa di molto difficile, tanto è vero che non è stato chiuso, nonostante abbiano governato fino all'ultimo comunque l'assessore al bilancio non ha chiuso il bilancio, ci sono stati più rimproveri da parte dei revisori dei conti e il commissario non ha voluto chiuderlo perché dice che non è possibile chiuderlo, pensate un po'. Quindi sarà una cosa molto seria, ma certamente noi dovremo evidenziare con molta chiarezza quello che non va, altrimenti noi andremo a fare che cosa? A firmare qualcosa che noi non abbiamo condiviso? Quindi vedremo questo bilancio, cercheremo di riportarlo piano piano in ordine, certamente ci vorranno sacrifici, ma è inutile parlare di grandi opere in un comune come il nostro che ha dei mutui che non riesce a coprire e l'ingresso di Danaro Fresco non riesce a coprire quello che abbiamo da pagare. Quale progetto ha per creare occupazione stabile ad Agropoli non solo stagionale? Quindi abbiamo parlato in questi giorni di turismo, Agropoli città del turismo, insomma si vive di turismo ma a così non sembra perché poi insomma il lavoro è stagionale come dice questo signore e poi invece per tutto l'anno e per il resto dei mesi a venire insomma che cosa succede ai giovani agropolesi? Innanzitutto non bisogna più immaginare che il lavoro sia dato con le cooperative, le cooperative hanno fatto il loro tempo perché le persone devono smettere di lavorare con contratti a termine senza nessuna sicurezza. Tanto è vero che noi siamo arrivati alla riduzione della popolazione perché le famiglie giovani non fanno più figli, se ne vanno, ma perché qui noi che cosa gli proponiamo ancora? La preistoria delle cooperative, quindi lavoro a termine, a scadenza, pagato male, ma chi volete che realizzi qualcosa qui? Allora noi dobbiamo incoraggiare i giovani a creare loro stessi lavoro perché ne hanno la capacità, ma se noi daremo a tutti quanti le stesse pari opportunità non facendo delle preferenze faremo uscire fuori i giovani capaci, quelli che sono capaci di fare industria, di fare start up, di avviare aziende sul territorio. Cosa pensa di fare per risolvere la situazione spiagge? Visto che hai sollevato la problematica del porto furbo, tra virgolette, ecco ci aggiungiamo anche la catastrofica situazione che stiamo vivendo da più di un decennio per quanto riguarda la spiaggia della Marina e anche e soprattutto il Lido Azzurro, quello che sta lì poc'anzi. Già una start up fatta da giovani per creare un'industria che possa riciclare queste alghe, visto che noi viviamo in un territorio dove per fortuna il mare è così pulito da avere la Poseidonia, quindi la Poseidonia è assolutamente da tutelare. Il problema è quando? È che l'oro l'hanno accumulata per anni in una montagna, quindi nessuno più può smaltirla, ora è diventata monnezza, non può essere più smaltita se non in discarica, quindi assolutamente bisogna trovare i fondi per portarla in discarica. C'è poco da fare, qualcosa invece o molto potremmo fare invece per sfruttare la Poseidonia quella spiaggiata, cioè quella che si deposita da poco sulla spiaggia e che una legge incompleta non ci consente ancora di rimanere in mare, perché la regione ha messo sì dei fondi, però noi potremmo attingere anche facendo dei progetti validi, perché guardate, i progetti vanno selezionati e anche nella selezione dei progetti bisogna avere persone giovani capaci di vederli questi progetti, di accaparrarseli e i progetti europei investono in questi settori, quindi noi dovremmo essere capaci di trovare gli investimenti che possono essere anche investimenti locali.